Scaffali carichi di vino Una ruota Una situazione particolare E 5 minuti di tempo per scegliere le etichette giuste Ma occhio a non superare il budget La cifra ammonta a Ogni giorno un Signor Vino La sfida dei Wine Blogger Signor Vino è un negozio specializzato in vini italiani Dove è possibile comprare, degustare, bere un calice o una bottiglia Allo stesso prezzo dell'asporto Una selezione di oltre 1500 etichette di vino 100% italiano Prodotti ricercati e di qualità Venduti al prezzo di cantina Con punti vendita presenti nelle più suggestive zone Delle principali città italiane Il personale giovane e qualificato Riesce a consigliare il vino perfetto Per ogni occasione ed esigenza Ed è proprio Signor Vino A lanciare la sfida a giovani blogger di successo Nel panorama vinicolo italiano L'esperto sommelier Cristiano Cini è in viaggio nei negozi del brand per incontrare i popolari concorrenti Sarà lui a giudicare la prova del blogger a cui verrà assegnato un punteggio per abbinamenti, originalità e budget Ma soltanto chi rispetterà tempi e spesa consentita potrà portarsi a casa il vino Al fianco dei blogger ci sarà il Wine Specialist Presente in ogni negozio Signor Vino Che, con professionalità e gentilezza Sa guidare i clienti alla scelta del vino giusto Siano essi esperti, semplici appassionati O sporadici consumatori Oggi con noi ci sarà Maria Si definisce una sommelier atipica Per lei il vino va condiviso, gustato, senza analizzarlo troppo Segni particolari Alta, occhi verdi, un bel sorriso Ed è innamorata del vino italiano Rifiutereste mai un suo consiglio? Oggi Cristiano è arrivato a Milano Capitale del business, della moda e del design in Italia Precisamente nello store di Signor Vino in Via Dante L'emozione del Castello Sforzesco Prosegue all'interno del negozio 500 metri di locale con sala privata Dove sperimentare una formula giovane e divertente Di scegliere e degustare il vino Lontana dalle troppe formalità Che spesso circondano questo mondo Oh Maria, ciao! Ciao! Che bello di rivederti! Ciao Cristiano, dove stai? Benissimo, ben trovato Bene, bene Ed è un sacco che non passi da qua Lo so, è colpa mia Però sono contento di venire a trovarti Ma soprattutto mi sono goduto a Milano Ho fatto due passi, 5 minuti Duomo, Castello Sforzesco Mica male qua Eh sì, dai, si respira bene Bello, bello E poi sono contento Perché insomma, l'altra volta mi sembra che Qualche giorno fa ho incontrato Andrea Devo dire che insomma la figura del Wine Specialist È nettamente migliorata Questo mi fa piacere Teniamolo per noi Non lo diciamo Andrea Ci stiamo evolvendo, dai Vabbè, che facciamo qua oggi? Oggi qua facciamo un po' di giochi Facciamo qualcosa di diverso Benissimo E con chi giochiamo? Verrà Saverio Russo Wow, grandissimo Saverio Eh sì Beh, allora spezziamo un po' di Saverio Andiamo a berci una bollicina intanto Vai, ti seguo Fammi strada Oggi sarà una giornata un po' particolare In quanto faremo un gioco Con Saverio Russo Che è un wine blogger Molto conosciuto e molto seguito Quindi ci sarà da divertirsi Questo passa la vita per cantine 6.000 post al giorno su Facebook Questo è bravo Ospite della puntata Francesco Saverio Russo Founder di The Wine Blog Roll Oggi in Italia Se parliamo di vino e di comunicazione Il suo nome è fra i più influenti del web Sempre mosso da un'etica rigorosa Ed una filosofia comunicativa innovativa Scopriremo se Saverio saprà cogliere la sfida E magari farci scoprire qualche vino speciale Questo posto è incredibile Maria Ma qua cos'era una fabbrica? Che situazione era? Era un forno C'era una pasticceria Adesso dalle pastine al vino Ai vini e anche i dolci Esatto, ai dolci Oh, ben arrivato Ciao 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 che ti amo Ben trovato Un piacerno Ben arrivato Sono Francesco Saverio Russo Di Wine Blog Roll Sono un wine blogger Anche se non mi piace tanto definirmi così Perché non amo molto le etichette A parte quelle del vino Noi eravamo qui con Maria Due chiacchiere Un aperitino Un aperitino Ci siamo permessi nell'attesa così Di ingannare il tempo Facciamo un brindisi Tutti insieme Benissimo A te Ex forno Messo con questo senso di moderno Vissuto Caldo, accogliente Bello Mi piace molto Location numero uno Bene Saverio è arrivato Ma ci saranno delle sorprese Di che tipo? Io so che c'è una ruota Una ruota colorata Che non è una ruota di un'auto da cambiare Quindi non è lavoro fisico Oggi parleremo di vino Giocheremo con il vino Gireremo questa ruota E tu dovrai girare la ruota? Ok Sai uscire fuori Vediamo Non lo so Io compro la vocale Ok Andiamo a comprare Andiamo a scoprire il gioco Il mio compito sarà quello di guidare Saverio Nel conoscere il negozio Il viaggio tra le varie regioni Per le sue scelte Mi fa sempre piacere Quando ci sono attività Che rispondono anche un pochino A quella che è la mia voglia Di comunicare il vino Oh eccoci qua Alla ruota Lo strumento che preferisco Questa non te l'aspettavi No Assolutamente no Vedi? Cose simpatiche scritte Tutte situazioni Direi O no Maria Facili Sì sì dai Adesso ci divertiamo Vediamo dai A te l'onore di girare la ruota Vai tranquillo Vai 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 Oh Regali scomodi E qui ti ci voglio Perché adesso noi lo castighiamo duramente Adesso qua Anzi anzi Situazione che non volevo Una situazione scomoda Mo lo pettino io Allora Come funziona Situazione Oggetto Regali scomodi Ok Facciamo così Quattro vini Che dovrai scegliere Per quattro situazioni differenti Quindi un vino a situazione La prima Devi fare un regalo A quel simpatico Del tuo suocero Fai te Ok Secondo Chi potremmo impegnare Vediamo un po' Il tuo capo Simpaticissimo Secondo regalo Ho avuto ma proviamo Terzo Allora Si sposa Quel simpatico Del tuo amico Che non vedi da dieci anni Quindi non sai più chi è Dove sta Ma ti ha invitato al matrimonio Regalo squamodo Va benissimo Quarta Concludiamo Questo mi viene naturale Chi meglio di te Potrebbe fare un regalo Ad un wine broker Questo mi piace Perfetto Pesca perché ci vuole Quattro vini Pesca bene Maria Fai la brava perché il budget deve essere Se capita basso Quattro vini Quattro Vai Vai Apri Scavitto Oh Dai Forse ce la posso fare 100 euro 100 euro Quattro Le situazioni sono impegnative Matrimonio Capo Suocere Ho già qualche idea In realtà 100 euro sono tanti In assoluto 100 euro sono un bel po' di soldi Quattro bottiglie di vino Uno si diverte a comprare Però è la situazione È l'oggetto del contendere Che ti mette mica tanto bene Già con 100 euro riesci a fare Quattro regali Di quelli abbastanza importanti Dai poteva andarmi peggio Almeno ho un budget di 100 euro Per quattro vini Per me che cerco sempre nicchia Comunque vini con un alto rapporto qualità prezzo Dovrebbe essere un pochino più facile Vabbè Io a questo punto vi lascio Voi andate Fate quello che volete nel negozio Scegliete Divertitevi Io poi Anzi noi ci ritroviamo alla fine Ok Andiamo a fare un giro A voi Andiamo Dimenticavo ragazzi 5 minuti di tempo Solo 5 minuti Eccoci qui Siamo nella nostra selezione di bollicini Metodo classico E poi andando avanti Scoprirai le altre regioni Come ad esempio L'Alto Adige Il Piemonte Ok Friuli Se vuoi qualche bianco Un po' più profumato Ok E adesso mi sposterei A farti vedere anche altre zone Visto che abbiamo tutte le regioni Benissimo Qui vedo qualche bottiglia Interessante Vedo tante bottiglie che conosco Di Brunelli Ci conviene andare avanti A vedere il resto Magari torniamo dopo E qualche bottiglia la porto con me Va bene Nel ritorno Qui è importante muoversi bene Perché la scelta c'è Vediamo Vediamo come andrà Spero di riuscire a star dentro al budget Ascolta ma è possibile assaggiare qualche vino Prima di scegliere? Sì certo Però ti ricordo che poi hai 5 minuti di tempo Quindi Benissimo Però comunque se ti interessa anche da portare a casa Ci sono delle etichette già in frigo Ok Le porti già fresche Insomma pronte allo stappo Bene Allora ti porterei a vedere il centro-sud Ok Mi sento già a casa perché vedo le mie marche E tante regioni che conosco molto molto bene Ok mi sono fatto già un'idea per un regalo Già un'idea? Sì Bene Allora adesso parte il tempo Hai 5 minuti per scegliere le tue 4 bottiglie Proviamo Per i regali Proviamo Adesso vediamo perché sono un po' indeciso Poi c'è il vincolo del prezzo che è la cosa forse più complessa Via 5 minuti da adesso Vediamo un po' come se la cavano questi scaffalisti ragazzi Qua visto che è partito il tempo Hai già un'idea con che cosa partire? Sì io partirei con lo sposo Ok Visto che si festeggia qualcosa di importante Più o meno Poi vediamo come andrà il matrimonio Partirei con una bolla Rimaniamo sul classico Forse 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 per rientrare nel budget E per avere un vino comunque di qualità E che possa anche durare nel tempo Andrei su Berti Una cantina storica della Franciacorta Una delle poche avere ancora vigne abbastanza vecchie Conduzione biologica Francesco Primo Credo che sia Vino con forse Il miglior rapporto qualità prezzo Metodo Franciacorta Perché per me non possiamo più chiamarlo metodo classico Base chardonnay Pinot bianco e pinot nero Credo che per festeggiare l'inizio di una vita insieme Ci possa stare Il regalo allo sposo Che non vedo da dieci anni Sai Ti mette sempre un pochino in crisi Ok Allora te la prendo io Questa intanto Ok grazie Ti mettiamo a posto questa Andiamo E proseguiamo Sì andiamo che il tempo scorda Con il secondo Sì dai Anche io avrei scelto la stessa cosa Perché comunque gli sposi richiamano festa E la bollicina ci sta Ok Andiamo con la seconda Sì Allora vediamo Piemonte Sì dai Una bottiglia piemontese la dobbiamo mettere Un rosso Un bianco Allora sempre per fare gli unconventional Direi di scartare i rossi Anche perché scontenterei qualche produttore che conosco molto bene E andrei su un bianco particolare Qualcosa di non territoriale a livello di varietale Ma che secondo me invece esprime la forza di un terreno Di un territorio che può dare buoni risultati anche con un vitigno internazionale come il Riesling Renano in questo caso Andrei sull'erzo di Ettore Germano Ok Eccola qua Ok Vediamo se è lei Sì è lei Riesling di livello Piemonte Grande boccia Grande scelta Poi qua guarda che il tempo scorre Quindi ci dobbiamo muovere per il terzo regalo Ok 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 Allora Toscana sì per forza di cose Dai abbiamo fatto Piemonte Io vivo in Toscana da un po' quindi bisogna Per chi è il terzo regalo? Abbiamo detto sì Penso Facciamo questo ipotetico suocero dai Ok Andrei su No il Brunello Col Brunello non ci sto Non ci sto Anche se siamo alla terza bottiglia potrei usare un pochino Due minuti Solo due minuti Sì ancora Sono al terzo vino Mi sembrano lunghi questi paloni Dai aiutami un po' io Attenzione che dopo devi prendere anche la quarta Aiutami un pochino Quindi piuttosto se mai ti faccio assaggiare qualcosa Scegli Ok ok Fai una sorta di scelta Intanto te la vado a preparare Potrebbe andare Sono un pochino indeciso Sai che oserei addirittura un Chianti Classico Però dobbiamo andare sulla purezza Vedo Dai Il Chianti Classico di Felsina Però magari assaggiamolo Perché quest'annata ancora non ho avuto modo di assaggiarlo E vorrei Vorrei essere sicuro Perché sai i suoceri sono sempre abbastanza esigenti Allora io ti farai andare a scegliere il quarto vino E intanto te lo vado a stappare Così lo assaggi Va benissimo Scelta la seconda e la terza Adesso manca la quarta bottiglia Quindi il gioco si fa un po' più interessante E bisogna stare attenti a guardare il budget Vedremo che cosa sceglierà Nell'attesa di assaggiare il Chianti Dobbiamo andare sul quarto vino Ok E ovviamente io non posso non scegliere un vino della mia regione di origine Che sono le Marche Andrei ovviamente sul Verdicchio Che non me ne vogliono gli amici di Matelica Ma io devo assolutamente stare sui Castelli di Chiesi Facendo un po' mente locale forse potrei anche usare con il prezzo Allora 50 secondi L'ultimo vino Va vediamo Non so Collego Wine Blogger E qua è difficile Sarà un bel rompiscatole Sicuramente Adesso a parte di scherzi Ma devo Devo scegliere bene Vado a colpo sicuro Io scelgo il Villa Bucci Riserva 2013 Perché è un vino che amo Di una cantina che secondo me ha segnato la storia in positivo del Verdicchio E devo prendere questa per forza Quindi vai diretto su quello Sì, sì A costo di sforare il budget ma Sì Scelgo questo Benissimo Allora ti porterai ad assaggiare Visto che siamo gli sgoccioli Ampelio e Bucci Un monumento del vino italiano Quindi qua abbiamo gli ultimi secondi Per assaggiare il vino E per prendere la decisione definitiva Sì Dobbiamo confermare Dai vediamo Esatto Vediamo se confermi Sono quasi sicuro Sul vitigno Era un pochino indeciso sulla bottiglia Anche per un discorso di prezzo Ma Ragionandoci un po' Secondo me ci siamo La bottiglia va bene Tra le mie scelte Non potevo non contemplare un Sangiovese Perché vivendo da quasi 10 anni in Toscana E amando questo vitigno Che poi è il vitigno più coltivato in Italia Non potevo non metterlo Suocero dovrà metterla un pochino in cantina Perché secondo me questo è un vino Da far affinare un po' in bottiglia Ma va bene Io confermo Dai Quindi decisione presa Si e me lo bevo anche E la tua risposta definitiva La accendiamo Tra suocero Amico che non vedevo da tanti anni E ancora di più Collega Wine Blogger Le difficoltà erano molte Allora se vuoi Vai pure ad accomodarti E puoi tranquillamente degustare il tuo calice Ok Intanto vado a vedere quello che hai combinato Va benissimo 2 1 Stop 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 Tempo terminato Stop stop Allora siamo arrivati al dunque Maria Come è andato Saverio Beh è andato bene Secondo me Stiamo dentro Vedi giusti Al budget Ha scelto Beh Bella scelta Bella fetta d'Italia Direi niente male Però adesso noi dobbiamo vedere se È rientrato nel fratidico budget Qua si fa la prova del nave Prego Partiamo dal primo Ok 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 E Riesling Finiamo con il Riesling Ok Ce l'avrà fatta? Scriva lei Scrivo Scrivo Adesso Vediamo Io comunque ti dico una cosa I vini non sono male Vini ci piacciono Vabbè Saveria è bravo Sì io C'era bisogno di Sono dei bei regali Hai scritto? Scritto Scritto? Sì Puoi aprire la busta Non diciamo niente Questo è un segreto che rimane tra di noi E rimarrà tra di noi Perché finiamo qua No No dai Adesso dobbiamo andare da Saveria E comunicargli il risultato Esatto Sono pronti? Andiamo 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 da Saveria Andiamo Eccoci qua Ti vedo bello rilassato Con l'assaggio Sei sicuro Sei sicuro Io so Adesso Adesso Il momento di rilassatezza finisce qui Caro amico mio Perché adesso arriva il momento del verdetto Attenzione Attenzione Quindi Io qua ho 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 Il fatidico bigliettino Ho sforato di sicuro E Non so La prova non era semplice Perché Cinque minuti di tempo Ed è veramente poco Troppo poco In un mare di vino Così è troppo troppo poco Quindi non era così semplice Budget di? Maria? 100 euro Preparatissima Maria preparatissima Perfetto Ce l'avrà fatta? Ce l'avrà fatta? Speriamo dai Vediamo un po' Allora Ce l'avrà fatta? Non lo so Dai Diciamo Diciamolo insieme Dai Maria Il tuo budget Era di 100 euro La tua spesa è stata di? 97,60 Cioè Grande Tu saveri Tutta fortuna Hai la mia stima assoluta Sei stato un grandissimo Mi abbraccio da solo Ce l'hai fatta? Perfetto Ce l'hai fatta Bravo Complimenti Sappiamo che Mastici di vino Non niente tuo 3 euro di avanzo 97 euro Pensavo sì Di rimanere entro Il margine Ho cercato di non sforare Ma andarci così vicino È stata una sorpresa anche per me Alla fine Ha tenuto Una media perfetta Ha scelto la qualità Con un occhio al prezzo Bravo Prova superata E Saverio Ha vinto Le 4 bottiglie di vino a scelte Faranno 2 Te le porterai a casa Le godrai Come vuoi Le stapperemo qui insieme Oh ecco guarda Ancora meglio È un ragazzo intelligente Mi sta anche simpatico Perché da solo Senza aiuto alcuno Adesso ci ha invitato Senza suggerimenti Noi verremo Tu facci sapere Giorno, data, luogo E noi saremo lì presenti Va benissimo E poi Giusto per chiudere Questa puntata Questa giornata divertente Della quale vi ringrazio Tutte e due Ci saranno delle valutazioni Che saranno mie E vedremo Vedremo come andrà Ok Benissimo Intanto io vado a prendere un cavatappi Perché ero rimasto indietro Di una bottiglia Prima Voi aspettatemi pure qui Ciao 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 Una prova da manuale Saverio è stato fortunato Con il budget di 100 euro Ma doveva comunque pensare A quattro regali scomodi Per quattro situazioni differenti In cinque minuti È riuscito a mettere Alla cassa Splendide etichette Molto diverse fra loro E tutte particolari E interessanti Un'intramontabile franciacorta Un chianti di carattere Un signorile verdicchio riserva E un elegante riesling Per questo Cristiano non ha potuto fare a meno Di assegnare il massimo punteggio In ogni campo Cinque bottiglie per la creatività Cinque bottiglie per l'abbinamento E cinque per il budget Gestito in maniera ottimale Il totale è di 15 bottiglie Adesso la sfida per gli avversari Si fa più dura che mai Riuscirà qualcuno ad eguagliare Saverio? A presto